Siamo già in onda? Ma siamo già in onda? Volevo farvi vedere una persona seria Brutta persona, pericolosa, molto pericolosa Con noi oggi abbiamo Alessio Bernabéi Alessio Guzorgo Alessio Bernabéi Buongiorno Siamo a... Bravi! Sul palco della Color Run, Alessio Bernabéi! Direttamente da 105, Paolino Martin Sao Genova! 3, 2, 1, final! Sao Genova! Buongiorno, siamo arrivati alla fine della tappa di Genova e della Color Run Andiamo a poco, alla prossima e a fine inizia! Ruah! Musica 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 Musica